Prosegue il piano di rilancio dei mercati cittadini, l'amministrazione ha stanziato in bilancio fondi per 4 milioni di euro che verranno trasferiti ai municipi che ospitano i mercati rionali, investimenti da destinare alla montezione straordinaria delle strutture, all'adeguamento e messa a norma negli impianti e alla riqualificazione e valorizzazione delle attività commerciali. Approvata dalla Giunta Capitolina la delibera che riordina e snellisce le procedure per le affrancazioni e le trasformazioni in materia di piani di zona. Dopo anni si mette ordine in un settore complesso, dando ai tanti cittadini coinvolti risposte certe, garantendo loro trasparenza, equità e certezza dei tempi di elaborazione delle pratiche. Avviata tra Roma Capitale e Federpreziosi ConfCommercio Roma una sinergia per la tutela della sicurezza degli esercizi commerciali, previsti sgravi fiscali per l'amodernamento delle apparecchiature di videosorveglianza e il lancio sul web di un mercato virtuale per l'orificeria Made in Roma.